Ciao a tutti ragazze, eccomi tornata oggi con un video che sono stra felice di fare Giovedì parto per Parigi con il mio ragazzo e sono stra stra felice Ma è arrivato il momento di pensare a una cosa davvero critica I beauty da viaggio Io l'ho preparato, il mio ragazzo mi ha detto guarda amore non siamo fuori per un mese Io ho detto ma lo so benissimo, se era per un mese era molto più grave la situazione A parte gli scherzi ci tenevo a mostrarvi il mio beauty da viaggio Pisicchia un po' però giuro ho rinunciato a tantissime cose, ho preso veramente le cose essenziali per me Più o meno E anche per quanto riguarda i pennelli lì ho fatto davvero una bella cernita E poi purtroppo andando in aereo il problema è sempre il solito A parte il peso e i liquidi quindi comunque mi sono comunque un po' dovuta adattare a determinate cose Che poi vi mostrerò E niente Allora, questa è la mia pochettona È carinissima, è plastificata, è fucsia con tutti questi cuori bianchi E l'ho comprata qualche mese fa da Kiabi È davvero carina e come vedete è davvero molto molto grande e capiente Meno male Ok, partiamo dai prodotti della base Sempre per un discorso sia di liquidi ma anche di praticità Ho deciso di portare il fondotinta minerale, questo della neve Light coverage mineral foundation nella colorazione light rose E sto diciamo abbastanza anche tranquilla per quanto riguarda bagagli e cose varie Perché avendo il sifter non va a perdere il prodotto in giro E quindi sto abbastanza tranquilla Mi piace come sta e tutto quanto E quindi va più che bene Comunque la fine non è neanche tanto grande e ingombrante Poi Che quanto riguarda il correttore Ho scelto questo della Sobio Il mio correttore compatto per due motivi Sia perché è uno dei miei correttori preferiti E quindi a meno so che comunque sto tranquilla Che se ho occhiaie, imperfezioni, cose varie Posso stare tranquilla E poi anche perché è compatto E quindi non essendo liquido Non mi va a pesare sempre su questo discorso Ho la colorazione 01 Beige Claire Di solito io lo stendo con il pennellino Ma lo stenderò con le dita Visto che il pennellino per il correttore non l'ho portato Faccio vedere prima i trucchi e poi i pennelli Poi Sempre per la base Ecco qui E' stato un po' un problema decidere la cipria Perché Avevo deciso per una cipria di quella che ho Insomma tra quella neve, quella mua Ma il problema è che poi dovevo portare un altro pennello Quindi alla fine Ho deciso di portare questa di Kiko L'Invisible Powder E anche se non mi piace per nulla Di applicarla con il suo Con la sua spugnettina Insomma Almeno così evito di portare un altro pennello Comunque è una cipria che mi piace tanto Mi tiene sul trucco tutto il giorno E quindi è proprio perfetta per Diciamo anche la vacanza e tutto quanto Per quanto riguarda la terra Cercavo un'alternativa Sinceramente perché Ho scelto questa di Essence Che ormai la vedete spessissimo Nei miei video Ma effettivamente è davvero grande E ingombrante Fortunatamente come vi ho detto Il beauty è molto grande e caviente Quindi Non mi crea chissà che problemi Cercavo una sostituta tra quelle che ho Ma a nessuna mi piace quanto questa E quindi alla fine ho visto Che alla fine Cioè visto che ci stava Non mi creava troppi problemi E ho ceduto E ho preso appunto questa qui Della Essence La Sun Club Nella colorazione 01 Natural Per quanto riguarda il blush Io ne avrei portate almeno tre Ma poi la mia vocina interiore Diceva Dai Laura fai la serie E ho scelto Questo blush della Essence Il blush up Perché perlomeno Avendo due tonalità di colore Alla fine È come se avessi più blush Perché Se prelevo qui Ho questo colore aranciato Se prelevo qui Ho questo rosa un po' Tendente al fucsia Se li mischio E mi usci fuori un bel colore pesca Quindi alla fine È come se avessi Più blush insieme E la trovo comunque Una buona Alternativa A portare troppe cose Questo è Numero 10 Heat Wave Poi Come primer 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 purtroppo Insomma Non ne posso fare a meno Specialmente se voglio Che il trucco Mi duri dalla mattina Fino alla sera Senza andare nelle pieghette E cose varie E alla fine Sono 4 ml Quindi sti cavoli E ho scelto Il mio Fedele Allo stage Di Essence Almeno insomma Tranquillissima Poi passando Agli occhi E ho preso La matita Quella mi vedete In tutti i video Per le sopracciglia Della Benekos La Natural Eyebrow Designer E Arriviamo alla palette Qui Ho avuto seri problemi Seri ripensamenti Ero partita Nel colportare Una palettina Essence Poi ero partita Con due palettine Essence Poi mi sono detta Perché portare Più palettine Quando alla fine Ne ho una Che Va bene Per tutti Diciamo Tutti i make up Per tutti i miei bisogni Quindi ho scelto Lei La Naked 2 Che effettivamente Mi Mi dà modo Di creare Più look Diversi Fra loro Perché posso usare I colori Più nude Posso per la sera Posso usare Con i colori Un po' più scuri E Quindi secondo me La palette È veramente Ideale Per viaggiare Tra l'altro Ho pensato Dentro Ho anche un altro pennello Quindi Male non fa E Ho scelto lei Ho scelto lei Anche per un altro motivo Quando Mi sono resa conto Di portare le palette Essence Non era questa grande idea Ero indecisa Tra questa E la mia palette neve Ma Alla fine sono ricaduta Su questa Per il motivo Del packaging Perché quella neve Si si chiude bene Ma La vedo un po' Fragile Non lo so Questa comunque È Bella di latta E poi Si chiude Proprio bene Quindi Boh La vedo un po' Più sicura Non lo so Poi Oltre alla palette A tre matite occhi Ho preso La long lasting Nera Della Essence La 01 Black Fever Immancabile Poi Un Due Tre Pastello di neve Una è questa Caramello Ve la faccio vedere Ma ve la Ve l'avevo fatto vedere Anche in un altro video Che è Questo marroncino Che posso usare Sia come basombretti Sia Nell'arima interna Ovunque Poi Ho preso Cedrata Che è questo Aro luminoso E poi Ho preso Cielo Che è questo Azzurro Chiarissimo E opaco Poi ho preso Anche un'altra matita Aggiunta proprio All'ultimo Che è la Double Glam Di Kiko Nella colorazione 100 È comoda Perché ha Da una parte E la matita Marrone scura Sembra quasi nera A vederla qui E dall'altra La matita Color burro Che è davvero Luminosissima Poi Ultima matita Ho scelto Questa è la Glamour Glamourous Eye Pencil Di Kiko Nella colorazione 407 Che ha Un blu scuro Un blu notte Avendo portato Tutte queste Matite Ho portato Anche un temperino Ovviamente Ho scelto Questo di Kiko Che tra quelli Che oggi Ma è il migliore Poi Sempre per quanto Riguardo agli occhi Il mascara Il mascara Sono due A ricorrere A una mini size Per non Portare una grande Sempre per il discorso Dei liquidi Ho scelto Hypnose Drama Di Lancome Che adoro È bellissimo E ha questo Scovolino Ondulato Non so come definirlo Che fa delle ciglia Fantastiche Tra l'altro Sono solo 2 ml Di prodotto Quindi Perfetto Per quanto Riguarda Le labbra Anche qua Mi sono dovuta Tenere Ho preso Un burro cacao Il mio burro cacao Diciamo Preferito Del momento Che è questo Della Natural Is Better Ha aloe vera E acido Ialuronico Che adoro E poi Avrei preso Mille rossetti Ma alla fine Ho scelto Lo 08 Di Essence Il color Crush Che è questo Bellissimo Rota Fucsia Tra l'altro Ho letto che va fuori Produzione a settembre Quindi approfittatene E compratelo Perché è bellissimo E dura Davvero Davvero Tanto E poi Il matitone Della L'Oreal Glam Shine Balmy Gloss Che è questo Rosa Un po' nude Molto glossato Appunto Effetto gloss E basta Ma non so Se aggiungerne altri No Poi Nel mio Beauty C'è anche Un campioncino Di crema Eterea di neve Purtroppo Ne ho solo uno Cercherò di farmelo Abbassare per 6 giorni Dubito che ci riuscirò Magari vedrò Tre campioncini Che ho Se ho qualcos'altro Ma non ho questa E questi sono 3 ml E poi Per quanto riguarda Lo struccaggio Devo ricorrere ovviamente Alle serviettine Struccanti E dopo Vari che ne ho provate Perché Parto dal presupposto Che a me non mi piace Struccarmi con le serviettine Perché Non mi sento Struccata al 100% Poi ogni volta Tutte mi bruciano Gli occhi Quindi No Invece ho trovato Un'alternativa Economica Da morire E che mi piace Che sono queste serviettine Della Lidl Prisala Lidl Della Iseree E tra l'altro È una marca Di cui prendo sempre Anche i dischetti Per struccarmi Insomma Ed è buonissima Sono delle serviettine Molto molto imbevute Struccano benissimo Non bruciano Assolutamente gli occhi E vengono 1,50€ Veramente pochissimo Quindi Ve le strastra consiglio E porto questo Ovviamente Poi All'interno del beauty C'è anche Una spugnettina In lattice Questa è di essence E Una mini lima Sempre di essence Questa Sono di quelle Profumate Che sono dentro Alla plastichina Questa Sa di fragola Ed è questa qui Che Buon comoda E Un mini buffer Ed è questo qui Sempre con le fragoline Questo è il brise Cosmoproof Ed è carino Perché è piccolino E comodo Passiamo ai pennelli Allora Avevo acquistato Tempo fa Al 50% Appunto Per viaggi E cose varie Il set Acqua Di neve Cosmetics Sono Dei pennelli Davvero Davvero Fantastici Ovviamente Li vedete sporchi Ora li lavo Prima di partire Ovviamente E Sono due pennelli Da viso Questo è Perfetto Per il blush E questo qua Un po' più grande Quindi va bene Per la terra Appunto Per quello che vi dicevo Prima Sono solo due Quelli da viso Per questo Ho pensato Blush e terra Se porto la cipria E diciamo Senza applicatore Devo prendere un altro pennello Quindi Per quello Ho scelto Quella di Kiko Con la spugnetta Invece Per gli occhi Devo dire C'è una vasta scelta Poi sono piccolini Come vedete In confronto A un pennello Grande E Ci sono Cinque pennelli Da occhi Uno E questo qui Ha sedoli piatte Un altro Ha sempre Le sedoli piatte Ma è leggermente Più piccolino E Poi ci sono Due pennelli Da sfumatura Questo qui È più Fitto Questo andrebbe bene Anche volendo Magari permettere Il correttore E poi Questo qui Che è proprio Il classico Pennello Da sfumatura Morbido E Infine Un pennellino Da eyeliner Quindi dire C'è veramente Tutto il necessario Per fare Un trucco A chi Tranquillamente Io ho aggiunto Solamente Il flat boogie Perché portando Il fondotinta minerale Mi trovo benissimo A stenderlo Con questo E quindi L'ho messo E è il flat boogie Di neve Tra l'altro Faccio vedere La poscettina dentro È fatta davvero bene Perché Ha qui Queste tasche Se riesco Dove Vanno i pennelli Più grandi Questi da viso Poi c'è accanto L'altra taschina Dove vanno I pennelli Occhi Aspettate Che li metto Ok Si chiude Questo qui Si chiude E E Tra l'altro Quando io la vado A chiudere Qui c'è una cerniera Dove puoi mettere Altro Io pensavo di metterci Il flat boogie E la spugnetta Quindi diciamo Le cose proprio D'applicazione Di trucco Si chiude E si chiude Tutto Con un bottoncino Quindi come vedete È veramente comodo E pratico Anche da mettere In bolsa Cioè È veramente comodissimo E avete qui tutto Il necessario Per fare un make up E quindi niente Questa è la mia super pochette Questo è il mio Portapennelli Diciamo E questo è quello Che mi porterà in vacanza Aspetti i vostri commenti E fatemi sapere Cosa ne pensate E fatemi sapere Anche se andate a Parigi E se avete qualche consiglio Da darmi Ci vediamo ormai A mio ritorno La settimana prossima Ciao ragazze Buone vacanze